Un punto è un punto, che soddisfa il nostro visito e lo porti a casa. Considerato che siamo a quattro partite dalla fine, quindi esclusa questa, che tutte le nostre dirette concorrenti hanno pareggiato o perso, direi che possiamo anche portarci a casa con un mezzo sorriso. Dopo quello che sicuramente dobbiamo migliorare, e purtroppo ormai è abbastanza lampante questa cosa, la gestione dei nostri vantaggi che ci sono praticamente sempre e che non portiamo mai a casa. La questione è che una squadra che se gioca a calcio e fa quello che sa fare, come tutte le squadre, sfrutta le proprie caratteristiche, è un'ottima squadra. Se invece cerca di fare quello che non sa fare, è una pessima squadra, ma questo vale per tutti. Il Teramo in questo momento è una buona squadra, il Teramo è una buona squadra, c'è giocatori forti, non è una squadra così da... Secondo me sta facendo un giro di ritorno molto buono, adesso io non so bene le statistiche, ma penso sia una delle squadre che il giro di ritorno ha fatto più punti. Quindi la cosa, sì, dà una risposta già da sola, secondo me è un'ottima squadra, sa attaccare, ha capacità di attaccare, sa difendere e soffrire, sa partire in contropiede. La squadra è molto buona, quindi a maggior ragione è una partita difficile e è un punto che ci portiamo a casa anche tranquillamente, senza star lì a fare tante recriminazioni. Secondo me recriminare i suoi risultati è stupido, bisogna recriminare e imparare a gestire le situazioni che fanno i risultati, che è diverso.